A Semiliano Fedriga la disoccupazione giovanile sarà il 40%, un dato che non si è mai visto nel nostro paese? Sì, un dato che ovviamente smentisce tutti i proclami fatti da questo governo dove si prevedeva l'uscita imminente dalla crisi ed anzi il ministro dell'economia parlava di luce in fondo al tunnel. È chiaro che invece nel tunnel ci siamo in piena con il 40% di disoccupazione giovanile. Voglio ricordare il dato più alto dall'inizio delle rilevazioni delle serie storiche, quindi un dato drammatico che deve essere affrontato in modo veloce per dare risposte a queste situazioni di drammaticità sociale. Purtroppo invece sembra che questa maggioranza o ex maggioranza stia solo pensando a baghi interne o ad accusarsi a vicenda di che è la colpa della crisi. Io voglio però ricordare che questi stessi soggetti hanno approvato la riforma Fornero delle pensioni che ha aggravato l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Quindi le cose da fare immediatamente sono l'abbattimento del costo del lavoro, quindi ridare il potere d'acquisto ai lavoratori e permettere alle aziende di tornare competitive e l'abolizione della stessa legge Fornero che ha portato a moltissimi danni ai nostri cittadini e a pochissimi benefici se non nulli.